Totò Schillaci, idolo di Italia 90, è morto a 59 anni. Ricoverato in gravi condizioni lo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico a Palermo, ora gli amici e la famiglia si stringono intorno ai ricordi condivisi con l'ex calciatore. Totò si era sposato due volte, prima con Rita Bonacorso poi con Barbara Lombardo, e aveva tre figli, Nicole, Jessica e Mattia. Ecco chi sono e cosa fanno nella vita, e gli ultimi messaggi per il calciatore. Totò era sposato con Barbara Lombardo dal 2012 e con lei gestiva il Luis Ribolla, Riporta Today, un centro sportivo fondato da Schillaci stesso, per aiutare i bambini dei quartieri difficili a integrarsi. Barbara Lombardo, originaria di Palermo e classe 1975, è stata modella e ha partecipato persino a Miss Italia. Intanto ha continuato gli studi come odontotecnica e oggi è dentista. Pechino Express 2022 Avventurosi e innamorati, come coppia Barbara e Totò avevano partecipato all'edizione del 2022 di Pechino Express. I figli, Mattia, Jessica e Nicole Totò aveva tre figli, nati da relazioni precedenti, Mattia e Jessica, nati dal matrimonio con Rita Bonacorso, e Nicole, nata da una relazione successiva. Mattia, il maggiore, per quanto noto vive in Portogallo e studia odontoiatria presso l'Università Fernando Pessoa. Jessica, secondo genita, scrive sul profilo Instagram di essere un'infermiera, amante della scrittura. Su Nicole, invece, non ci sono informazioni disponibili. Il messaggio di Jessica, papà giocava all'ultima partita della tua vita. La secondo genita Jessica ama esprimersi attraverso la scrittura sul suo blog. Proprio lunedì aveva condiviso parole struggenti dal suo profilo Facebook. Ci avete mai pensato alle lacrime? Sì, alle lacrime di tristezza? A quelle correlate al modo in cui esprimiamo dolore? Sì, a quelle di rabbia? Le lacrime brutte, non quelle belle. Quelle talmente brutte che ti annegano. Ti tolgono il fiato. Ti regalano singhiozzi. Sono quelle lacrime che se osservi bene da vicino hanno dell'incredibile. Un'incredibile quasi palpabile a cominciare dalla loro genesi. Di cosa sono fatte? Le lacrime sono fatte di acqua e di vita. E l'acqua è vita, da sempre e per sempre. Senza loro, senza quelle lacrime che noi stessi creiamo non ci saremmo. L'acqua è la vita, vita che noi creiamo con i nostri occhi. Con quelli riusciamo a vedere, sentire e ad assaporare. La vita è quella saggio di miscela perfetta che solo noi siamo in grado di creare e anche in quello c'è bellezza nella sua complessità. C'è bellezza nella vita che esce da noi ad ogni pezzo di dolore che penetra nel nostro cuore e c'è vita nella bellezza di contemplare chi non vogliamo lasciare regalandogli vita, un pezzo della nostra, con le nostre lacrime. Da lontano sembrano invisibili, dal colore trasparente che le rende così insignificanti. Da vicino però quelle lacrime così trasparenti stanno bene con tutto. Porca miseria, si adattano a tutto. Sono il contorno giusto su ogni colore e sfumatura. Dopo tempo, dicono, che riescano a rendere sbiaditi i contorni più duri da guardare. Oggi saluta il padre così, papà stavi giocando l'ultima partita della tua vita, sapevi già che l'avresti persa ma te la sei giocata benissimo. Il matrimonio tormentato con Rita Bonacorso Mattia e Jessica sono nati dal primo matrimonio di Schillaci con Rita Bonacorso. Un amore tormentato è una relazione complessa, che negli anni si era trasformata in un rapporto più equilibrato. I due avevano detto sì nel 1987, ma il loro rapporto è collassato in pochi anni, nel 1995, travolto da reciproche gelosie e tradimenti. Un amore giovanile che ha accompagnato l'ex calciatore durante gli anni d'oro della sua epopea calcistica e da cui sono nati i primi due figli, Mattia e Jessica. La relazione con Gigi Lentini Tra le indiscrezioni più scottanti sulla coppia, Rita salì agli onori della cronaca per le voci sulla relazione avuta con Gigi Lentini. I guai legali e la vita in roulotte di Rita Rita diventa poi protagonista di alcuni guai legali quando, nel 1992, viene coinvolta da una sua conoscente palermitana negli affari di una gioielleria a Torino, poi fallita. E nel 1996 inizia il procedimento coinvolge anche l'ormai ex moglie di Schillaci, che risulta debitrice in quanto socia. La donna viene quindi condannata a risarcire un fornitore di gioielli e nel 2006 la sua casa viene venduta all'asta. Ero la moglie di Schillaci, ora dormo in roulotte, diceva Rita in un'intervista nel 2018 a Fuorigioco.